Distrazione fatale questa mattina per due operai in servizio che alla guida di un camion gru hanno spezzato la trava in legno collocata sotto l'arco di porta San Mama, in via Baccherini. Il veicolo intorno alle 10.40 stava procedendo lungo via Baccherini in direzione via Bastione, zona stadio, ma al momento di passare sotto la porta si è incastrato con il cassone della gru contro l'asse di legno per poi spezzarla. Residenti e commercianti hanno raccontato di un lunghissimo suono provocato dall'antico legno che si andava spezzando e quando sono usciti hanno sorpreso i due operai che stavano armeggiando intorno alla gru per abbassarla e poter così passare sotto la porta liberamente. Una manovra tardiva che non ha risparmiato la porta dai danni e oggi pomeriggia costretti i tecnici del comune a lavorare lungamente sul manufatto chiudendo la viabilità per tagliare definitivamente la trave ed evitare eventuali pericoli. Non si sa se i due operai avessero dimenticato il cassone della gru alzato o se fossero convinti di riuscire a passare sotto la porta nonostante l'altezza del veicolo. Fatto sta che la loro disattenzione ha portato alle conseguenze ora ben visibili su tutto l'arco. Da verificare al momento la montare dei danni dell'errata manovra e l'esatta dinamica dell'incidente. Non è infatti ancora chiaro se i due uomini una volta avvertito una resistenza nel loro avanzare abbiano immediatamente fermato il veicolo per verificare cosa stesse succedendo o se invece abbiano provato in tutti i modi ad avanzare e solo in un secondo momento si è loro venuto il dubbio che forse l'altezza del veicolo con il cassone della gru alzato era eccessiva e qualcosa stava andando storto.